Il guasto che ha causato un'esplosione risale allo scorso mese. Si è fatta impellente la necessità intanto di intervenire nel sistema delle torce del biogas di Timpazzo ancora oggi nella gestione del lato CL2 in liquidazione. Dopo le verifiche ARPA ha fornito delle prescrizioni che vanno attuate prima possibile anche per non incorrere in sanzioni. Dai rilievi infatti è emerso che il cattivo funzionamento delle torce potrebbe generare emissioni pericolose. L'amministratore giudiziario che in questa fase porta avanti lato CL2 a seguito del sequestro disposto nell'inchiesta sull'impianto di compostaggio autorizzato gli interventi da effettuare per le riparazioni verrà individuata la ditta che se ne occuperà. I lavori sono indicati con carattere di urgenza come precisa nel provvedimento l'amministratore Carmelo Blancato. Già a fine ottobre quando si è verificato il guasto l'amministrazione giudiziaria la definita situazione incresciosa è subito stata prospettata l'ipotesi di un'azione per i danni. L'ato nel sito di Timpazzo deve occuparsi anche delle vasche ormai non più in uso che sono gravate da una procedura di sequestro per un'indagine su presunte anomalie nella fase post mortem. L'esplosione delle torce ha quindi determinato la necessità di interventi che adesso verranno espletati anche per non incorrere in conseguenze dopo le verifiche di ARPA.